Consiste innanzitutto in dare un logo e un portale che racconta la storia, le bellezze ambientali, paesaggistiche, i beni culturali, tutto quello che c'è in un territorio come la città di Vallefoglia. E pensiamo che possa diventare l'ambiente, il turismo, la storia, i beni culturali, il patrimonio naturalistico un pezzo del sistema economico e produttivo che crea lavoro, occupazione, crescita e benessere. Questo era un territorio tutto agricolo prima che si mettessero insieme questi due comuni, Sant'Angelo e Colbordolo in Vallefoglia e poi diventato il territorio dei mobilieri e poi il territorio della lavorazione del vetro, della metallomeccanica, della refrigerazione. Bene, oggi attraverso questo portale pensiamo che debba diventare anche un territorio turistico che è in pezzo del sistema economico e produttivo, puntando come vedete il manifesto alle mie spalle nella festa del primo maggio a realizzare la costituzione che metta al centro il tema del lavoro, del benessere, della crescita e della piena occupazione. Soprattutto in un periodo come questo dove il settore turistico è quello che ha sofferto maggiormente? Abbiamo sofferto tutti, certamente il turismo è quello che ha sofferto di più, pensiamo che si possa riprendere naturalmente come abbiamo detto tutti i giorni, quotidianamente, rispettando le regole, evitando assembramenti, mantenendo le mascherine, igienizzazione, le cose che sappiamo sperando che con una vaccinazione a tappeto si possa ritornare già dall'estate in una situazione di normalità. Ecco, questo è un obiettivo e una novità perché non c'era un portale turistico con un logo turistico che ci distingue da altri territori, anche delle marche della nostra provincia e pensiamo che questa sia una cosa buona per far conoscere le bellezze della città di Vallefoglia. Il sito è strutturato per essere facilmente navigabile, per trovare tutte le informazioni nel più breve tempo possibile, nell'essere immersivo, anche nell'abbinamento con delle grandi immagini e una selezione di immagini che potessero rappresentare al meglio quello che è poi il territorio e quelli che sono i testi di Alessandra Mindoli è facilmente utilizzabile, abbiamo pensato per tutte le fasce di età e comunque da dispositivi sia desktop che mobile. Sul sito si troverà un menu dove si può navigare in tutte le categorie, nelle sottocategorie, è possibile tradurre il sito in diverse lingue e quindi dare la possibilità anche ai turisti di poter tradurre velocemente i testi. Nella home page troviamo un riassunto di tutte le varie categorie e poi c'è una parte del blog dove ci sono degli approfondimenti su tutti i personaggi illustri, su tutti i paesi, i nostri borghi e tutte le caratteristiche più, diciamo, curiose e importanti anche del territorio. Grazie Grazie Grazie